oggi rimaniamo in zone caraibiche toccalda e kiri drink a base di rum lime e zucchero si versano tutti gli ingredienti in uno shaker io userò un cobbler in tre pezzi e poi filtrerò il tutto in una coppa martini le dosi sono 45 millilitri per il room si può usare sia il bianco o un leggermente ambrato 25 millilitri di succo di lime appena spremuto insieme E' circa 20 o 20 minuti. 25 millilitri di sciroppo di zucchero. Per fare lo sciroppo ho semplicemente portato a bollore in un pentolino unendo un bicchiere d'acqua e un bicchiere di zucchero. Mescolato di tanto in tanto e poi lasciato freddare. Si ricompone lo shaker e si va fino a che non si avvertono le mani congelare. Svuotare la coppetta preanzi raffreddata, come direbbe un famosissimo chef dell'internet, e versarci dentro il drink. Io uso anche un colino per evitare che qualche pezzettino di polpa di lime o del ghiaccio finisca nel bicchiere. All'Havana c'è anche il locale culto del Daiquiri, si chiama Floridita, dove ad Hemingway qui gli hanno addirittura fatto una statua di lui seduta al bancone. E non so per quale motivo qui il Daiquiri lo preparano frozen. Cioè frullato con il ghiaccio. L'associazione internazionale Bartender non prevede questo e non prevede nemmeno una guarnizione. E quindi io lo servirò così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e se non siete iscritti fatelo. Altrimenti un cocktail pesante vi cascherà sul piede, facendovi molto male. Salute! Al prossimo episodio